siamo nella splendida civita vecchia ma c'è un vento mostruoso oggi una cosa pazzesca infatti fa un freddo cane e si vede da come siamo vestiti ma è leggera c'era un droppone lo facciano lo faccio la molla non c'è il passaggio è il passaggio Sì. Strati si entra piano qui le rocce non perdonano qui qui il 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 un 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 sulle rocce sono molto più griffi che sul terreno grande giulianone bravo 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 il richiamo uccideteli la bestia nera eccolo è riuscito a passare e qui forte è una cazzata messaggio tecnico devo rallentare e scorrere buono chissà bravo piano piano vai ha toccato l'abbiamo la l'abbiamo la la amore non ti facciamo niente al momento tra mezz'ora io comunque non ti do le spalle non ti do le spalle